Oggi vorrei toccare un argomento piuttosto importante e questo argomento, amici miei, è speciale per me. La cosa più importante è la nostra relazione con Dio. Da questo dipende tutto, in effetti, anche da relazioni con altre persone. Dipende molto. Ci rendono felici o infelici. Ma il rapporto con Dio, questo influisce tutta la nostra vita. E per avere queste relazioni, è necessaria una cosa, molto importante, di scoprire la verità su come Dio tratta noi personalmente. Bisogna sapere la verità. Ecco, questi sono i tempi che devono arrivare. Vedete, c'è una fede nell'unione. E c'è quel momento in cui vi trovate di fronte al fatto quando Dio vi tratta impersonalmente. Prima o poi dovete affrontare questo fatto. Il nemico è bugiardo e di solito cerca di fare di tutto per farvi pensare che Dio non vi stia trattando bene. Inoltre, vorrei dire a tutta la Chiesa, in tutto il mondo, cari figli di Dio, dovete sapere che in questo momento, per questa questione, dovete avere una risposta chiara. Queste sono le fondamenta. Questo è il punto cardine di tutta la nostra vita. Questa è la base affinché tu sia fedele, altrimenti rimarrai infedele. Ma la cosa più interessante è che tutto questo rimane nascosto nelle profondità del nostro cuore. Non lo confidiamo mai a nessuno. Soffriamo, ma di cosa? Innanzitutto, cari amici, dal rifiuto, dal rifiuto delle persone, il rifiuto da parte delle persone è una cosa molto interessante. E vi dico perché. Perché ci sono persone che ci accettano, ci rispettano. Ma nonostante tutto, esiste il nostro mondo interiore. Esiste ancora quella vita che nessuno può vedere. Abbiamo alcune cose interne, sono cose che non vorremmo mostrare a nessuno, per le quali noi, a dire il vero, possiamo pure vergognarci, ma non possiamo cancellarle. Poi sentite, ci sono alcuni peccati, alcuni desideri, alcuni sogni. Ci sono tante cose che la gente non sa dire. E quando la gente ti accetta, ti rispetta, ma in realtà lo fa non per come sei, ma per come tu appari a loro, posso sentire un amen. Perché, così come sei, se davvero ti conoscessero, non ti accetterebbero. E tu di questo ti rendi conto. Noi viviamo con questa consapevolezza, perché non possiamo aprirci. Non possiamo decidere di scoprire tutto quello che c'è dentro. Come mai? Semplicemente se ci apriamo, sappiamo già che non ci accettano. Saremo tentati di farlo, ma non più di così. Cioè, tutto andrà a rotoli e non ci sarà nulla di buono. Non solo quello, ma vi stanno addirittura manipolando. Come risultato, tutto questo comporta la sofferenza con la quale siamo stati abituati a convivere. Consideriamo tutto ciò normale. Andiamo avanti così. Viviamo indossando le maschere. Ma sai che abbiamo ancora un grande bisogno. Lo crederai anche tu. Un bisogno di essere accettati così come siamo. A te piacerebbe essere amato per quello che sei? Le persone si sposano. E poi iniziano a conoscersi ed improvvisamente l'amore svanisce. Perché iniziano a conoscersi per quello che sono? E scoprono di aver amato un falso Sergio? Oppure una falsa Valentina. Però non volevano amare quelli veri. Il problema sta proprio qui. Sentite, il problema più serio sta nel profondo dell'anima. E questo è il nostro segreto. lo sarà sempre. Perché ci perseguita questo pensiero. Dio non ci accetta per quello che siamo. Proprio quando conosci i tuoi errori, i tuoi peccati, conosci alcune delle cose che potrebbero essere solo nella tua testa, conoscendo tutto di te stesso, hai un pensiero dentro, il modo in cui sei fatto. Dio non lo accetta e pertanto non può amarti, come se fosse impossibile farlo. E affinché Dio ti accetti, cosa ti serve? Devi cambiare, devi liberarti di qualcosa di brutto. È questo che io vi sto dicendo? Quindi pensano tutti così o no? Amen oppure no? È così che pensano tutti? Hai bisogno di lasciare qualcosa. Così inizi a combattere, a provarci. Cominci a fare tutto l'impossibile. Tantissimi sforzi. Ma vedi che non puoi cambiare le cose. Fanno parte di te e basta. Alcune cose sono dentro di te fin dall'infanzia e non c'è niente da fare. E non importa come combatti. E non importa come preghi. Vedi che niente funziona. Ti sembrerà di resistere, ma prima o poi crolli. E che succede? Ti deludi. Ti convinci di non poter essere una persona che Dio possa accettare. E voglio dire che in realtà questo è un problema serio. Perché se nel profondo della tua anima, nel tuo intimo, nel tuo pensiero segreto pensi che Dio non ti accetti per quello che sei, ecco cosa succede. Non avrai mai la fede. Non avrai la fede. E ancora di più, non avrai il coraggio di osare. Non avrai amore per Dio. Non avrai nessuna relazione con Lui. Perché tutte le persone che si portano dentro questo segreto portano un tale pensiero. E di conseguenza mantengono le distanze da Dio. perché anche quando Adamo è caduto in peccato, guarda cosa è successo. È scappato via da Dio. Prima passeggiava con Lui nel giardino. Parlava. E poi tutto ad un colpo è scappato e si è nascosto. Dio viene. E Dio sa tutto. Lui e ogni presente sa dove si trova Adamo. Ma lo stesso chiede, Adamo dove sei? Potete immaginare. Cioè Lui gli domanda che cosa ti è successo. E quindi la gente si nasconde. Poi comincia a giustificarsi in un modo o nell'altro. Cominciano a difendersi sempre di più. E tutto questo è sbagliato. Infatti, amici, cercate di capire che quella conoscenza, cioè la conoscenza segreta, lo potete pure appuntare. Cari amici della chiesa in tutto il mondo. Scrivetelo per voi stessi. È la conoscenza segreta di come venite trattati da Dio, che vi rende felici o infelici. Tu puoi essere un credente, ma un credente infelice. Quel credente di cui le preghiere non sono esaudite da Dio. Non riesci a capire perché, ma potresti essere anche davvero felice. E ora devi capire, chi è Lui per noi? Padre o patrigno? Questa è la questione seria. La mia principessa, Victoria, aveva un patrigno. L'ho conosciuto. Lei è stata umiliata da Lui tante volte, presa in giro. Lei ha provato tanto dolore. Era una persona terribile. A volte abbiamo tali associazioni quando diciamo la parola padre. Per molti questa parola evoca pensieri e immagini negative. Ma vedete, in effetti, il padre, il nostro padre celeste, è assolutamente diverso dai padri terrestri. Diciamo tutti amen. Vedi, oggi è importante sapere che il padre celeste, ascoltatemi con attenzione, questa conoscenza dovrebbe entrarci dentro per sempre, perché è la verità, è la verità che Lui ti accetta così come sei, proprio ora. Proprio ora. Non hai bisogno di cambiare nulla perché Lui ti accetti in questo momento. Ora, voi dovreste afferrare questo concetto. Quando dite a una persona, rinuncia a questo peccato, così Dio ti accetta. No. Questa è una bugia. Dio ora ti sta accettando. Lui è morto per te. Gesù è morto per te quando eri ancora peccatore al 100%. Amen. Diamo gloria a Dio. Bisogna che ve ne rendiate conto profondamente che Dio non aspetta mai un cambiamento per poter accettare. Lui vi ha già accettato e vi ha accettati così come siete. Ma come si potrebbe cambiare? Amici, non possiamo cambiare noi stessi. È impossibile. In questo siamo impotenti. Si arriva al punto in cui o iniziamo a cercare scuse per la frustrazione, oppure ci arrendiamo dicendo, Dio, siamo impotenti. Ma è impossibile cambiare senza di Lui, senza che tu accetti il suo amore. Ascoltami, io posso cambiare e quel momento è una conseguenza del fatto che Dio ci accetta per come siamo. Vi continuo a ripetere. Il cambiamento è il risultato che Dio ci accetta noi così come siamo. Quando noi siamo accettati da Dio, lo sappiamo questo, è il nostro segreto, molto personale. Quando ti dicono, se lo fai questo, allora Dio è contro di te. Tu puoi diventare vittima di queste parole. A volte, questo viene detto anche dal pulpito. Conosco questi predicatori, portano questo messaggio di condanna, il messaggio di rifiuto. C'è un vero spirito di rifiuto nei loro messaggi. E così lo liberano, lo spirito di rifiuto dal Dio. Premono sui punti deboli, come se lo facessi. Se avesse peccato. Aspetta qui, nella stanza accanto, siamo tutti dei peccatori. La Bibbia dice, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Non c'è bisogno di inventare niente. Sai, quando un predicatore dice questo, costringe queste persone a imprigionare dentro se stesso lo spirito del rifiuto, per poterlo rilasciare dopo. Solo che non è più soltanto il rifiuto verso le persone, ma verso Dio. E dovresti insistere che non siete come gli altri. Ripeti, non sono tutti come gli altri. Credi in questa cosa. Ho il mio rapporto segreto con Dio. Semplicemente il mio segreto è che Dio mi accetta così come sono. Poi quando comprendi questo nel futuro con Dio, con il suo amore, quando sei pieno di gratitudine, come la donna che ha lavato i piedi a Gesù, piangendo con le lacrime, e lui dice i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Adesso tutti diciamo Amen. questo è il momento che Dio ha accettato così come sei. Semplicemente ti fa esaltare con ammirazione. Lui fa in modo che non possiate stare in piedi e non piangere davanti a Lui. Allora chiedi Dio, beh, come fai ad amarmi così? Accettarmi così? Ecco, esattamente così. Non ci posso credere, sei veramente così meraviglioso? Pensavo che tu sei diverso, diverso, meraviglioso. Tu sei proprio così, Padre. Il Padre che mi accoglie, che mi comprende, che fa tutto solo per proteggermi e che prende in considerazione tutto. Ascolta, allora sei in questo amore di Dio. Così hanno iniziato i tuoi cambiamenti e con Dio puoi cambiare tanto. Amen.